quindi questo personaggio a parte che perché era veramente vissuto 500 anni fa mi ha dato una grande responsabilità ma dall'altro punto di vista abbiamo girato tutte le scene suoi nei location veri nel senso non so se sei stato a istambul ma ti piace il palazzo di palazzo di tokkapi che il palazzo del sultano e io cioè stavo là dove veramente il principe mustafa che si chiamava il mio personaggio dove ha fatto il giuramento 500 anni fa cioè abbiamo girato nei posti veri e ovviamente anche quello ti dà un'energia una responsabilità molto molto forte insomma questo personaggio è andato in giro per il mondo e ancora oggi ricevo dei messaggi da sudamerica dalle filippine o diversi fan club in russia in argentina insomma ancora la gente mi manda tantissimi messaggi meravigliosi rispetto a questo personaggio